Musica Cari telespettatori buonasera, siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino sempre in diretta allora vado a presentarvi l'ospite di questa sera, Doyle, benvenuto ad Antonio Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche buonasera sindaco buonasera Simona, buonasera a tutti quelli che ci vedono su Fano TV stanno già arrivando dei messaggi per lei ma intanto vorrei ricordare i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta per parlarle 0721 86 14 33 il numero per chiamare quindi parlare direttamente con il primo cittadino oppure 338 49 68 250 è il numero di telefono per mandare messaggi anche con Whatsapp sindaco partiamo dal DPCM abbiamo sentito anche nel corso del nostro telegiornale che è sparita dal testo alla parola sindaci e all'articolo 1 del decreto si legge che delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21 però a decidere se chiudere o meno un quartiere così come ha detto anche il ministro Boccia sono i sindaci abbiamo sentito il parere ad esempio dei primi cittadini di Fano e Pesaro lei che cosa ne pensa? Intanto qual è la situazione nel comune di Terre Roveresche e poi anche se prevede di adottare qualche provvedimento, ordinanza? Allora la situazione a Terre Roveresche come sanno tutti i nostri cari cittadini perché ormai venerdì abbiamo preso questa abitudine di fare questa veloce diretta su Facebook e dare aggiornamenti non solo su quella che è l'emergenza sanitaria ma un po' su tutte quelle che sono le attività del comune e noi ai dati di oggi insomma abbiamo sei persone in quarantena quindi la situazione alla fine è abbastanza tranquilla non è che abbiamo, c'è da avere paura ecco dobbiamo sempre ricordarci e raccomandarci con tutti di rispettare quelle regole che ormai sappiamo quindi la mascherina, il distanziamento sociale e soprattutto l'igiene delle mani per quanto riguarda il DPCM io l'ho ascoltato al di là o meno che ci sia la parola sindaco o no tutti dobbiamo sapere, ci ricordiamo che già il testo unico degli antilocali dà dei poteri ben precisi ai sindaci quindi per ragioni di pubblica sicurezza e di sanità il comune e quindi il sindaco può adottare una serie di provvedimenti il problema secondo me non è il fatto di dare potere o meno ai sindaci che poi come dicevo in parte lo hanno già ma di avere una linea comune quindi non è possibile che poi viene demandato ad ogni singolo sindaco eccetera di poter chiudere o meno strade o piazze qui serviva una norma e una linea generale applicabile in tutta Italia perché altrimenti ha poco senso che in un comune un sindaco può adottare appunto questi strumenti nel comune a fianco non si fa niente quindi alla fine io non penso che è a vanificare un po' beh vanifica il tutto l'attività quindi la linea va comune cosa che probabilmente è mancata prima e sta mancando ancora di più adesso ma ci sono dei luoghi o piazze nel vostro caso in cui si creano questi assembramenti solitamente nel fine settimana no adesso qui grandi casi non ne abbiamo poi anche il fatto è complice di non poter organizzare degli eventi come c'erano adesso infatti dispiace molto che l'ultima domenica di ottobre c'era la castata delle streghe un evento molto importante che richiamava tante persone a San Giorgio e in tutto il comune da tante parti anche da tante parti d'Italia non si può tenere per ovvie ragioni come poi il mercatino di Natale a Santa Caterina e quant'altro la corsa dei Babi Natale è la corsa dei Babi Natale questo evento sportivo quello che però sicuramente faremo perché su questo diciamo possiamo mantenere le condizioni di sicurezza e celebrare il 4 novembre quindi la forza la festa delle forze armate dell'unità nazionale quello sì mantenendo le distanze quindi lì è più semplice puoi rispettare tutte le norme dal mese di maggio se non ricordo male erano iniziati questi test sierologici nel comune per un progetto condiviso anche con Urbino poi com'è andata a finire? sono ancora in corso? i test sono ancora in corso perché comunque sia alcuni test continuiamo a farli il nostro personale è più a contatto con i bambini con il personale che è a contatto nelle mese nei pulmini eccetera nel trasporto scolastico e abbiamo fatto ad oggi grazie alla collaborazione con la cooperativa Articolo 32 la fondazione Articolo 32 dell'Università d'Urbino 350 test all'incirca test 2 test meno i dati sono pronti li stanno elaborando e probabilmente questo darà anche origine a una pubblicazione scientifica quindi poi si sapranno e poi vedremo perché appunto in questo modo avendo fatto il test sierologico siamo andati a capire qual era il livello di circolazione del virus all'interno del nostro comune per avere una sorta di indagine indagine e capire anche come appunto avveniva la propagazione questa mattina come abbiamo visto si è svolta la prima seduta dell'Assemblea Legislativa delle Marche la provincia di Pesero Urbino è rappresentata da tre assessori di che cosa ha bisogno il comune di Terre Roveresche? C'è qualche progetto in particolare sul quale la regione può dare il contributo? Allora i progetti che noi abbiamo sono tanti già nel passato e qui è doveroso ringraziare l'ex consigliere regionale Federico Taleb ha avuto diversi finanziamenti per alcuni progetti anche piccoli ma importanti alcuni anche legati al sostegno alla generatorialità nelle nostre famiglie il progetto Terre Educanti che ha avuto 7 mila euro dalla regione Marche quello che l'augurio che più che non solo per Terre Roveresche un po' per tutti i comuni marchigiani alla fine e che la nuova giunta regionale possa veramente accelerare l'utilizzo delle risorse europee perché ne abbiamo tanti miliardi forse milioni mi correggo fermi con la vecchia programmazione adesso se è vero che con il recovery fund dovrebbero arrivare nella regione Marche 8 miliardi di euro e sarebbe opportuno che la regione snellisca tutte le procedure burocratiche perché altrimenti non cambia sarebbe veramente un disastro alcuni dei fondi regionali sono serviti ad esempio però per l'acquisto di due bus scolastici ma elettrici anche questo è importante per tutti i ragazzi siamo stati fortunati perché giustamente per chi fa per chi amministra un comune e chiaramente chi amministra per come penso io come la vedo io non è che il sindaco o la giunta sta lì solo esclusivamente per applicare quelle che sono le leggi bisogna fare anche questo però bisogna anche dare una visione a quello che è il territorio una delle tante sfaccettature delle nostre linee di mandato è quella di passare il più possibile verso un'economia circolare sostenibile quindi anche gli autobus elettrici vanno in quella direzione allora fortunatamente siamo riusciti a recepire reperire tramite questo bando regionale 100.000 euro non pochi per acquistare due autobus uno è un ibrido quindi è a diesel ed elettrico invece l'altro più piccolino sarà totalmente elettrico per quando saranno pronti allora la gara una gara partirà a breve quindi quello più grande speriamo di averlo per fine anno e l'altro invece per il prossimo anno per il 2021 questo per 100.000 euro invece 20.000 euro riguardano un altro progetto esatto questo è un progetto di street art che va molto di moda dovremmo avere anche delle immagini sì beh è famoso non è terminato perché lo inaugureremo spero a breve il murales di Cerbara il murales ecco lo vediamo qua con gli elefanti che rievoca la battaglia la battaglia di Asdrubale contro i romani e lì grazie all'idea questa è una vecchia idea del professor Baldelli è stata messa in pratica dall'artista Natale Patrizzi in arte agra che tutti conosciamo ecco qua la foto insieme anche al responsabile dell'ufficio tecnico proprio sul luogo del delitto chiamiamolo così terre dipinte non si chiama questo progetto esatto il progetto è un progetto più ampio perché questo è uno dei tanti questo chiaramente avrà un'importanza fondamentale perché è un è un dipinto di 105 metri per due metri d'altezza quindi capite lungo tutto il canale di Cerbara e dicevo grazie all'interessamento all'aiuto di Paolo Pevarelli che ci ha aiutato a preparare questo progetto e quindi siamo riusciti ad avere 20.000 euro dalla regione marca per questo progetto di street art forse è il finanziamento più alto di questi progetti che hanno finanziato e quindi ci dà insomma ci fa ben sperare anche per il futuro perché poi ci sono tante il prossimo murales dovrebbe essere nella fornace nella nuova piazza e poi parleremo anche di quella ho tante domande per lei ma io andrei a leggere i messaggi dei suoi concittadini la prima domanda Sindaco vorrei sapere quando riprenderanno i lavori per il completamento dell'illuminazione in zona schippe perché le due date fornite appunto da lei sono risultate senza esito sì sì sono passate quello lo sappiamo che ci siamo dilungati anche perché poi nel corso abbiamo avuto anche altre emergenze sparse qua e là io spero ma adesso è difficile anticipare però i lavori li faremo noi io spero di mettere gli operai a fare questi due estendimenti che mancano a novembre uno rimane sulla parte che collega verso l'uscita della superstrada e uno invece è un tratto che va verso Sant'Ipolito Mattatoio di schieppe invece ci scrivono che insomma nessuno se ne preoccupa se stanchi per giunta alcune persone cominciano ad ammalarsi visto che ciò che si respira è paragonabile all'olezzo di maiali be oddio questo insomma non è molto carino però evidentemente c'è un problema di fondo è un problema che noi conosciamo è un problema antico che riguarda appunto queste emissioni maleodoranti che ci vengono riportate in alcuni periodi dell'anno perché poi in altri periodi dell'anno questo problema non c'è ma questo non significa che non deve essere trovata una soluzione io ho anche allertato l'ARPAN per chiedere proprio una verifica delle emissioni odorigine perché come dicevo questo problema che risale anche da quando ancora c'era il vecchio comune d'Orciano quindi sono tanti anni è stato interessato i carabinieri dell'allora stazione di Mondavio oggi della stazione di Terre Roveresche sono venuti in Oe l'ASUR col servizio veterinario sarà venuta non so quante volte però il problema è che dal punto di vista igienico-sanitario è tutto a posto quindi è difficile anche poter emettere provvedimenti di un certo tipo adesso con i ragazzi che gestiscono di nuovo la struttura si spera di poter perché hanno partecipato a un bando regionale e tra i vari interventi ci dovrebbe essere anche quello di poter in qualche modo alleviare questo problema Sindaco del digestore che cosa ha da dirci? le chiedono eh beh quello sul giornale siamo già usciti diverse volte anche in maniera in maniera diretta la posizione è chiara il progetto è stato presentato in provincia a febbraio è disponibile sul sito del comune perché l'abbiamo subito pubblicato per la parte di competenza nostra e quindi gli è stata fatta una verifica tecnica specifica sotto vari aspetti dal geologico all'aspetto che lega anche le missioni e quant'altro e chiaramente come è stato anticipato il parere non può che essere negativo anche perché appunto tecnicamente ci sono delle cose che non vanno bene quindi ve l'abbiamo anticipato adesso quando la provincia convocherà la conferenza dei servizi poi lì sarà il momento in cui verranno adottati gli atti formali tra l'altro poi per quello che riguarda il comune è previsto siccome quella è un'area agricola perché è un'area agricola di fronte alla vecchia discarica Carafaneto di Barchi lì dovremmo in qualche modo il consiglio comunale tutto non io o qualcun altro quindi tutto il consiglio esprimere sulla variante urbanistica che non non verrà concessa le contestano comunque il fatto che lei non ha organizzato un'assemblea pubblica però comunque ha sempre espresso meno male il suo pensiero sicuramente magari da condividere con i cittadini ma certo era in programma forse poco prima della volta scorsa quando era venuto qua poi dopo c'è successo il covid adesso volevamo se ne parlava con i consiglieri con tutta insomma l'amministrazione di organizzare la prima fine mese adesso il dpcm vieta queste cose adesso vedremo come fare però anche perché in via telematica magari con i cittadini in via telematica è impossibile anche se noi abbiamo un'ampia sala nella sala che usiamo a Dorciao del consiglio comunale molto ampia però le norme sono quelle stringenti non è che possiamo alzarci alla mattina e fare come ci pare volevo sapere a che punto sono i lavori della scuola Gio Pomodoro di Terre Roverische perché è una bellissima scuola ci scrivono con grandi classi bella palestra che in questo momento sarebbe importante poter usare invece insomma i ragazzi sono costretti ad essere dislocati un po' sparsi sì questo è vero allora esternamente chi vuole perché qualcuno anche si è fermato fuori dice qui i lavori non ci sono noi stiamo terminando i lavori all'interno perché sono ripartiti con un po' di lentezza anche perché abbiamo dovuto rescindere il contratto con la vecchia ditta quindi internamente sono ripartiti questi lavori entro fine mese inizieranno inizierà l'installazione degli infissi che nuovi per tutta la struttura poi un'altra ditta breve dovrà iniziare perché li abbiamo spacchettato in base alla tipologia di lavoro quindi per marzo e quindi per il prossimo anno scolastico dovremo essere a posto finalmente buonasera vorrei chiedere al sindaco se gli sembra giusto che uno debba avere la facciata di casa piena di filiene le telecom per ristrutturare poi diventa una situazione difficile in questo caso il comune può fare qualcosa può aiutare i cittadini oppure devono rivolgersi ad altri il problema di questi filiene adesso non so questo ascoltatore dove si trova in che municipio se all'interno del centro storico dei nostri comuni il problema è che nel tempo sono stati affissi questi cavi sulle facciate quindi è abbastanza complicato perché poi va a parlare sia con Telecom che con Enel dopo un certo lasso di tempo prendono e diventa una servitù è come se fosse un usucapione quindi lì sono per forza e per legge possono rimanere questi cavi adesso vediamo perché non so se magari il comune può sollecitare noi possiamo sollecitare possiamo avviare un discorso però non è sicuramente una cosa molto molto rapida e semplice però si può iniziare sì è una buona idea perché togliere tutti questi cavi sicuramente aiuta quando sarà attiva invece la navetta Orciano-Mondavio per i ragazzi che frequentano le scuole di Senigallia ormai promessa da diverso tempo sì l'anno scorso era partita poi adesso dobbiamo riniziare il servizio adesso aspettavamo questi primi questo primo periodo per capire anche col covid come andava perché questo è un è un servizio che il comune fa e che va a tamponare una carenza di adriabus per capirci ecco sempre a proposito di pulmini ci scrivono dalle frazioni di San Bartolo e anche a Virgineto perché ah e ne a Villa del Monte ci sono diversi anziani che purtroppo fanno difficoltà a spostarsi quindi la mancanza di mezzi pubblici di pulmini ecco anche qui se si può risolvere in qualche modo il problema di mezzi pubblici sì questo era un un nostro obiettivo nel nostro programma amministrativo quindi di mettere in piedi un specie di trasporto interno che collegasse appunto le frazioni con i centri quindi ci stiamo lavorando e quindi arriveremo anche lì un po' di pazienza ma arriveremo anche lì entro la fine del suo mandato però quindi due anni ricordando il 2022 ci è rimasto poco un anno e mezzo un anno e mezzo sì allora andiamo avanti con i messaggi ponte di Cervara sul Metauro sarà sistemato oppure rimarrà il divieto a vita ah questa è una bella domanda è che il ponte è provinciale e poi anche fuori dal nostro comune quindi possiamo interessarci come abbiamo fatto precedentemente sollecitare però non posso prendermi impegni perché appunto non è nostro e addirittura è anche proprio su un altro comune quindi difficile è difficile intervenire lì ci sono comunque delle ultime novità novità che riguardano queste settimane perché per la tassa adesso che si chiama TARIP sostanzialmente la tassa puntuale sui rifiuti viene calcolata in base alla produzione di anidride carbonica per spiegare anche a tutti i telespettatori che non sono del comune di Terre Roveresche come funziona esattamente e quali sono i vantaggi sì i vantaggi diciamo noi abbiamo creduto sempre ancora appunto c'erano i vecchi comuni ma lo cito perché noi siamo partiti ad agosto 2011 con la raccolta differenziata che piano piano si è evoluta si è migliorata e nel 2019 abbiamo iniziato questa sperimentazione specifica in cui andiamo a calcolare quant'è appunto la quantità di CO2 che possiamo risparmiare perché sapete il discorso del climate change quindi il cambiamento climatico è legato alla quantità di CO2 quindi noi abbiamo voluto meglio ancora l'ingegner Valentini insieme a Luca Belfiore di Altra Leonia hanno messo a punto questo sistema che è stato testato da prima in un piccolo comune che si chiama Monpeo di 500 abitanti e poi subito perché appunto l'ingegner Valentini è anche l'ingegnere che ha progettato il nostro sistema della raccolta differenziata nel 2011 quindi poi l'abbiamo applicato da noi in parole povere noi abbiamo dato ad ogni abitante a step adesso in questi giorni stiamo consegnando il nuovo contenitore per la plastica e per il vetro insieme a quello della carta del secco e dell'organico questi qui sono dotati di un microchip ogni microchip è associato a un'utenza quindi tu abitavi a Terra Roveresca e Simona avevi tutti i microchip col tuo tutti i bidoni col tuo microchip e quindi ad ognuno era associata la tua utenza noi cosa facciamo ogni volta che l'operatore passa in automatico perché i nostri i nostri mezzi hanno un lettore viene letto lo svuotamento e siccome abbiamo fatto una sperimentazione eccetera noi sappiamo che ad ogni svuotamento corrisponde un certo quantitativo di rifiuti e quindi riusciamo quindi un tot di peso esatto e quindi riusciamo a capire con degli algoritmi a convertire questo peso in quantità di CO2 che viene scaricata e risparmiata e per esempio l'anno scorso con la sperimentazione siamo riusciti a certificati da RINA risparmiare 2538 tonnellate di CO2 questo ci ha dato un risparmio di tutto il sistema di circa 15.000 euro che noi quest'anno andremo a ripartire tra le utenze che sono state virtuose quindi dei cittadini quindi i cittadini sia che hanno le utenze normali domestiche e i non domestici quindi quelle delle attività vedranno arrivare a casa un buono e avranno indietro dei soldi per capirci è già stata fatta questa lista abbiamo fatto la lista la lista è già pronta perché è stata calcolata quindi a breve la porteremo in giunta proveremo il meccanismo e quindi poi partiranno questa sorta di rimborsi quindi siete stati primi in Italia in Italia siamo stati insieme a Monpeo gli unici due comuni Monpeo si è fermato noi abbiamo approvato in vigore del primo gennaio 2021 questo regolamento della tarifazione puntuale che è basato sulla CO2 è l'unico in Italia che c'è quindi insomma un bel progetto che può essere preso ad esempio anche per gli altri comuni della provincia quanto meno e quanto può essere questo risparmio quindi il buono sostanzialmente il buono adesso non prendetemi alla lettera però ci sono casi in cui avranno indietro anche 35 euro quindi sono di importi diversi beh chiaro si va in base a quanto è stata virtuosa l'utenza e poi dare investire sul territorio c'è un legame allora l'idea è quella dell'Avignum che questi buoni possono essere spiegati al territorio così sono risorse che rimangono sul territorio quindi si aiutano anche ovviamente le attività del posto vorrei chiedere aggiornamenti sul bonus nuovi nati perché ad oggi non è ancora stato erogato il bonus nuovo nato per quelli di quest'anno è in corso di erogazione quindi hanno fatto gli atti ci siamo dilungati per prima per dopo l'approvazione del bilancio di previsione che è avvenuto a febbraio poi dopo è subentrato il covid quindi abbiamo posto l'attenzione su altre altre necessità altre emergenze però adesso gli atti sono pronti quindi verranno liquidati anche qui parliamo quest'anno di circa 75 mila euro che noi riversiamo nella comunità appunto a favore dei nuovi nati è chiaro che l'assegno che arriva che sono 5 mila euro diviso in due annualità quindi 2005 e 2005 non è che copre i bisogni per tutta la vita però è un incentivo per aiutare è un aiuto importante certo e anche in questo caso avevate dei problemi tra la moneta e questo l'idea era partire col buono poi l'anno scorso abbiamo dovuto accantonare questa cosa però quelli che riceveranno adesso riceveranno una parte in contanti quindi spendibili dove vogliono e un'altra parte in buoni mi racconta brevemente anche la storia di questa moneta della Lavinium della Lavinium nasce perché onestamente se devo dirlo ormai si parla in tanti comuni in tanti contesti di moneta complementare noi abbiamo fatto una moneta complementare un po' più semplice io ho preso in spunto da un'idea non so se vi ricordate tanti anni fa mi è capitato sotto mano l'articolo oggi poveretto lui non c'è più è defunto Ivaldo Verdini il sindaco di Cartocetum lui lanciò tanti tanti anni fa questo buono il Cartocetum l'ho chiamato questa moneta e allora lì è rimasto sempre impresso poi Ivaldo lo conoscevo bene perché era un cotaneo era un amico di mio padre sono cresciuti insieme e allora e quindi poi dopo piano piano col tempo quando siamo adesso arrivati a terre roveresche e abbiamo lanciato l'idea del bonus poi dopo ci è venuto in mente ma perché non li lasciamo sul territorio e allora ecco perché l'idea di un buono di una moneta è identitaria perché poi la vigna Feltre della Rovere era la signora di Montebello la sorella del duca d'Urbino e che era a Montebello quindi legata al posto radici storiche insomma un significato in questo caso buonasera sindaco come mai nella discarica in via Raffaneto si vedono i teri di plastica di copertura la normativa prevede una copertura con terreno vegetale e poi questi teli con il sole si rovinano questa la storia della discarica a Raffaneto è una storia molto molto lunga noi l'abbiamo come comune di Barchi prima la gittoria roveresche ereditata abbiamo la gestione da tempo doveva essere fatto il capping definitivo perché quello è un capping provvisorio ecco perché il terreno vegetale non c'è sopra i teli e adesso in questi giorni noi abbiamo ripreso in mano tutta la questione quindi stiamo progettando il capping definitivo e quindi poi andremo verso quella direzione è un intervento importante molto importante qui parliamo di un investimento di più di un milione d'euro un milione e un milione e mezzo una parte sono somme accantonate che erano state accantonate dalla vecchia comunità montana non sufficienti perché questo è stato l'annuso problema della discarica Carafaneto e quindi la quota che non c'è che ci servirà è dovremmo metterla ai comuni che facevano parte della comunità montana quindi che cosa ne pensa il sindaco dei limiti di velocità ai 30 km orari nei centri abitati non basterebbero i 50 basterebbe adesso rispondo a più del buonsenso perché in alcuni casi c'è i 30 ma è come se non ci fossero adesso prendo l'esempio di Piaggi dove abbiamo fatto anche delle rampe per poter cercare di rallentare ma mi sembra che alla fine ancora qualcuno tende ad andare un po' troppo veloce adesso diciamo che le ultime modifiche del codice della strada ci vengono a favore quindi probabilmente questi 30 potranno essere rivisti anche in 50 però questo ci permetterà anche di installare i famosi autovelox fissi perché adesso si può fare con le ultime modifiche a quel punto lì questo dovrebbe essere a nostro malgrado perché alla fine fare la multa non è che sia la cosa più bella del mondo però è l'ultimo deterrente rimasto perché tante volte il buonsenso che dovrebbe essere soprattutto non c'è e quindi è mancato un po' no manca non è che manca manca dappertutto in generale poi dopo manca adesso col covid in alcuni contesti non dappertutto però in alcuni contesti basta guardare la televisione assembramenti come se se nulla fosse come quando all'inizio del programma ha ricordato tutte le varie regole base da rispettare perché non ci stanchiamo mai di ricordarle ma a volte non ci pensa oppure insomma lascia un po' sembra che o non le conosco o lo facciamo a posto non lo so o una sfida comunque nel caso di questi tutor quindi non c'è più la necessità o meglio l'obbligatorietà di avere una pattuglia la modifica del codice della strada col decreto semplificazioni ha ampliato questa cosa quindi possono essere riattivati esatto quindi succederà suppongo in tanti comuni alla fine gioco forze l'unico sistema perché poi dopo le rallentatori magari no servono a poco alla fine serve a poco tutto ci ricolleghiamo un attimo al discorso di prima perché le chiedono gentile sindaco possiedo un ettaro e mezzo di bosco produce ossigeno e quindi riesco a coprire la CO2 prodotto dalla mia famiglia si può fare in questo caso cosa vorrebbe fare uno scambio dice io produco la CO2 e non pago i rifiuti possiamo pensarla se è vero faremo i conti poi vediamo se viene a trovarmi in comune ma dagli alberi alle piante insomma che riescono a dargli l'ambiente può essere una bella idea però se viene in comune ne parliamo perché non è esclusa questa cosa sindaco ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità ma ancora abbiamo tanti argomenti da trattare dalla piazza agli asfalti perché sono in corso ma ci sono tante altre strade ancora poi che verranno asfaltate ci ritroviamo qua fra pochissimo bene bentornati a primo cittadino sono in compagnia di Antonio Sebastianelli sindaco continuiamo subito con i messaggi la strada provinciale la strada provinciale Fornace-San Liberio è stata in qualche modo riparata per la strada provinciale che va da Schieppe a Vergineto è possibile far fare qualche intervento di riparazione alla provincia? allora sì questa è una nota dolente è vero che la provincia ha fatto alcuni interventi quindi la strada famosa dei tre punti che diceva il nostro ascoltatore ma ce ne sono altre la frana che ha sistemato davanti la cantina Fiorini sempre a Barchi ma qui noi parliamo di problemi che non sono problemi di qualche anno a questa parte sono problemi che sono lì da un ventennio sono un po' annusi sono vecchissimi e quindi è ora che chi amministra la provincia visto che la provincia è amministrata dai sindaci la casa dei sindaci quello che volete bisogna che riequilibrano un po' quello che è successo nel nostro territorio perché noi abbiamo delle vallate dove probabilmente asfaltano sopra l'asfalto che già c'è e poi la nostra vallata siete un po' dimenticati in questo caso dalla provincia siamo dimenticati anche se abbiamo dei rappresentanti dei consiglieri provinciali ma siamo abbastanza dimenticati non può battere i pugni in qualche modo per cercare di ottenere battiamo i pugni il problema è che adesso io chiederò perché questa è una cosa farò una lettera formale in cui vorrei chiedere quanto è stato speso negli altri territori e quanto è stato speso da noi poi dopo dovremmo riequilibrare un pochettino perché il nostro ascoltatore parlava della provinciale che va verso Virginito ce n'è un'altra la SP102 che invece va verso Monteporzio là non ne parliamo che sembra una strada da terzo mondo quindi a voglia di asfaltare le strade comunali ne parliamo dopo ma poi abbiamo le arterie provinciali pessime che sono importanti sì dopo non ne parliamo turismo abbiamo l'itinerario della bellezza l'itinerario delle rocche ma poi abbiamo un'infrastruttura viaria penosa gli autovelox fissi invece possono essere installati anche sulla provinciale 77 visto che è usata un po' come una pista di decollo ma quello sì adesso stiamo ragionando perché adesso mapperemo i punti più delicati i punti anche più pericolosi poi cominciamo a installarle anche noi è l'estrema razio come in tante in tante questioni però ma a volte i cittadini si lamentano sono anche un po' preoccupati perché no no ma hanno ragione distrattamente va più forte si beca la multa hanno ragione però invece qua chiedono degli interventi quindi vuol dire che c'è un problema effettivo il problema dell'autovelox è solo questo siccome sono i 50 i 70 l'autovelox ha un minimo un 10% di tolleranza quindi se fossero i 70 a 78 scatta non è che c'ha una via di mezzo questo è il problema la fotografia è molta però quando non si può far diversamente andiamo avanti sì andiamo sulle strade quindi asfaltature sì tante strade sono state asfaltate adesso quelle comunali no in questo periodo sì tante adesso stiamo finendo questi giorni un altro piano di asfaltature sono altri 133 mila euro che un po' toccano i vari i vari municipi e quindi noi andiamo avanti perché comunque si avere delle strade sicure noi diciamo le strade belle però strade sicure è un bene per chi ci abita perché chiaramente è da piacere a tutti stare in un posto bello pulito ordinato con delle belle strade e soprattutto è un bel biglietto da visita per qualcuno che viene nel nostro comune perché altrimenti è fatica a fare turismo con le strade come le nostre poi adesso non che dalla città si cerca di andare verso l'interno esatto con il discorso del covid ecco uno cerca di andare e noi abbiamo investito tanto in questi anni anche perché Terra Roveresca ha 250 chilometri di strade 125 asfaltate 125 di ghiaia e tutti gli anni insomma adesso questa settimana dovrebbero partire i lavori di manutenzione ordinaria delle strade quelle bianche per capirci perché anche quelle è un è un è un è un è un pallino nostro diciamo ecco a parte quelle di ghiaia ci sono anche delle altre che avete in programma di asfaltare allora adesso stiamo terminando con questo piano abbiamo fatto dei pezzi San Giorgio manca un un tratto a barchi che è la strada che collega il lago il famoso lago di barchi e adesso ne parleremo è un bel progetto che è dietro dopo tanti tanti anni e poi dopo verso diciamo ai confini del comune con Monteporzio Rialdone qualcosa in una frazione del comune di San Giorgio a Montecucco e comunque poi ne abbiamo altre abbiamo un tratto a Cerbara sopra da asfaltare da sistemare e quindi ecco siamo sempre tra virgolette in movimento bene ha detto del lago dovremo avere anche in questo caso delle foto per chi avete deciso appunto di recuperare questo questa è una vecchia foto esatto del lago un po' caro a tutta la comunità dobbiamo dire così allora questo era un lago conosciuto in tutta Italia venivano in tutta Italia venivano barchi al lago Bergamo si chiama così perché lì il fosso che è stato sbarrato che è dato origine al lago si chiama Torrente Bergamo e fortunatamente qui ringrazio l'avvocato Netti che è il presidente del consorzio di bonifica ringrazio Paride Prussiani che è un suo collaboratore che ci ha aiutato molto in questo percorso però siamo riusciti dopo anni e anni probabilmente non ci è mai riuscito nessuno ad avere in diritto di superficie l'area perché è del consorzio di bonifica noi abbiamo aprito in diritto di superficie per 99 anni e adesso il passo successivo è quello di fare il progetto per il ripristino la cosa assurda è che già negli anni 90 il ministero allora dell'agricoltura aveva stanziato 3 miliardi per il ripristino ecco perché stiamo velocemente progettando perché vogliamo essere pronti perché poi i fondi europei ci saranno e questo qui oltre a essere una grandissima attrazione turistica e chiaramente oltre a ripristinare qualcosa che fa parte della storia del comune di Barchi è anche un grande bacino che può essere utilizzato per la lotta aerea antincendio perché quello è un lago di 7 ettari non è piccolo è 7 ettari quindi è un bacino enorme quindi può aiutare logicamente può aiutare considerando poi anche la vicinanza di tanti boschi delle cesane questo è un polo importantissimo non può essere pronto il progetto perché è stato questa è un'operazione recentissima ma qual è la vostra intenzione? state già suppongo pensando l'intenzione è ripristinare il lago come era prima e quindi poi può essere utilizzata a scopo turistico eccetera quindi abbiamo già ripreso in mano il vecchio progetto che era stato fatto allora dal consorzio di bonifica bisognerà riadattarlo aggiornarlo eccetera però ormai la strada è tracciata il primo passo era avere la proprietà in questo caso il diritto di superficie perché se no altrimenti è difficile progettare è difficile anche chiedere le risorse perché se non è tuo che risorse chiedi? in questo caso la regione potrebbe aiutarli la regione potrebbe aiutare tantissimo anche perché questo è un bacino strategico penso che non so se come questo forse il lago più grande era il bacino artificiale uno dei più grandi della provincia di Pesaro probabilmente sì forse anche di tutta la regione Marche andiamo avanti con i messaggi vorrei chiedere a Sindaco si può fare qualcosa per la strada anche qui provinciale che dall'uscita forse ne parlava prima della superstrada di Serrungarina non va avanti comunque totalmente disastrata fino all'incrocio di barche per circa 10 km all'ora c'è anche il limite dei 50 sì c'è anche lì il tratto la famosa è sempre la stessa strada che diceva l'ascoltatore di prima che collega con Virgineto poi scende giù a Schieppe eccetera e anche lì fa parte dello stesso ragionamento dobbiamo deve essere devono essere equilibrati questi territori Sindaco ritorniamo un attimo sul digestore perché ne abbiamo parlato all'inizio però magari c'è sempre qualche telespettatore che si sintonizza più tardi le dicono e le chiedono è favorevole oppure contrario la posizione nostra l'abbiamo già messa sul giornale anche poco tempo fa è uscita fuori quindi l'amministrazione dopo aver valutato insieme a dei tecnici il progetto ha espresso il suo parere l'ha già espresso uno relativo al fatto di cambiare la pericolosità che era stata richiesta su quell'area abbiamo già espresso un parere negativo e l'abbiamo già anticipato che il parere è negativo perché tecnicamente ci sono tutta una serie di cause ostative quindi e no la copertura della piscina invece? la copertura della piscina abbiamo firmato i documenti col nostro governo e quindi adesso a breve partirà la gara quindi la macchina è partita e anche lì parliamo di un investimento di quasi un milione di euro e i tempi invece più o meno? i tempi adesso vediamo com'è la burocrazia se la gara non è in toppi non è escluso che per il prossimo inverno la piscina sia coperta usa sempre il condizionale perché poi quando ci andiamo a interfacciare con la macchina burocratica è un po' è sempre un problema molto a proposito di intoppi si parla spesso di assembramenti anche all'interno degli autobus degli scuolabus ci sono state delle lamentele delle richieste particolari nel vostro comune oppure per quanto riguarda il trasporto scolastico no siamo tranquilli anche lì è un po' assurdo il discorso del fatto che se il tragitto dello scuolabus è inferiore ai 15 minuti uno può avere la capienza al 100% è un po' questa cosa è un po' assurda e poi dobbiamo dall'altra parte mantenere il distanziamento nelle classi e quant'altro è un po' assurdo questo fa parte un po' di qualche norma all'italiana però tutto sommato la situazione è tranquilla l'importante è comunque mantenere mascherine perché indossate almeno quelle nel pulmino anche stamattina li vedo passare insomma anche i bambini sono abbastanza diligenti quindi portano la mascherina abbiamo le persone chiaramente sullo scuolabus che controllano e quindi è tutto più facile invece per la riflessione scolastica anche in questo caso c'è stato un cambiamento la riflessione sì c'è stata una nuova gara è arrivato si è giudicato un nuovo un nuovo fornitore del servizio che è la cooperativa di Apason di Rimini e anche lì adesso è ripartito tutto abbiamo cercato di ripristinare anche le metodologie che venivano utilizzate la volta precedente quindi coinvolgendo il più possibile perché fa parte dei criteri i negozi e le attività di terre roveresche per esempio le verdure vengono da barchi quindi più anche che siamo oltre il chilometro zero ecco adesso alcuni aspetti dobbiamo ancora registrarli come tutte le volte accade quando arriva qualcuno nuovo però diciamo mangiare sano e genuino fa bene fai bene soprattutto i più piccoli per i disabili sindaco si fa qualcosa terre roveresche i disabili dipende di che cosa parliamo noi cerchiamo di fare tanto investiamo su quelle che sono le persone un po' più sfortunate di noi non so se magari barriere architettoniche barriere architettoniche questo dobbiamo aggiustare se per le barriere architettoniche ancora qualche piccolo problema in alcuni municipi ce l'abbiamo perché alcuni o perché erano palazzi storici eccetera ma anche lì stiamo mettendo mano perché per esempio barchi faremo insomma dei cambiamenti importanti quindi per cercare anche lì di rendere accessibile ai disabili la struttura perché è importante il disabile deve andare da tutte le altre parti poi abbiamo sempre finanziato in maniera anche importante tutta una serie di progetti anche con la cooperativa articolo 32 per poter velocizzare aiutare il più possibile adesso a breve dovrà partire anche un servizio proprio di assistenza domiciliare che è indirizzato non solo ai disabili ma anche quelle persone che temporaneamente hanno delle problematiche delle disabilità pensa qualcuno che può fare un'operazione a Lanca e quindi è in qualche modo limitato nei movimenti nei spostamenti a casa e allora lì partirà un servizio sempre in collaborazione con la cooperativa articolo 32 che qualcuno dice che sia la cooperativa del comune ma non è così però è qualcuno è un soggetto del terzo settore che aiuta tantissimo e che è andata a colmare le lacune di quello che poteva essere il sistema sanitario regionale sul territorio ne avete risentito a proposito anche questo fatto della chiusura degli ospedali dell'entroterra alcuni servizi che possono mancare lì c'è l'attesa molto lunghe dal passato ad oggi ne abbiamo risentito infatti piano piano grazie alla cooperativa articolo 32 grazie all'interessamento l'altra volta del Presidente specificatamente del Presidente Luca Ceriscioli siamo riusciti anche ad avere un'ambulanza di tipo B sul nostro territorio a Fornaci quindi per cercare di limitare quantomeno queste i tempi delle patologie tempo dipendenti per esempio l'infarto l'ictus che si salva una persona solo con il tempo veloce però ne abbiamo risentito ecco perché era nata questa esperienza della cooperativa articolo 32 che appunto ci aiuta perché è un servizio ricordo a tutti i nostri ascoltatori che c'è un numero chiamate lì vi aiutano per le pronunzazioni del CUP e per tutta una serie di servizi che il Comune di Terroveresca eroga anche attraverso loro bene cambiamo argomento in una delle sue dirette sindaco quelle social ho sentito che lei ha parlato delle responsabilità che hanno i vari conduttori dei terreni vogliamo ricordarle perché credo che in tanti comuni in realtà ci siano questi problemi a questo è un problema annoso che sicuramente coinvolge tutti il discorso è che lì è il buon senso ma adesso noi alcune volte sì c'è il buon senso però comunque sia qualche controllo lo facciamo la settimana scorsa abbiamo fatto il controllo su tutta la zona di Rialdone oggi hanno fatto il controllo sulla strada Campioli quindi quella che da barchi va verso Fraterosa e il problema è che chi ha i terreni deve imparare a fare in maniera corretta i sulchi quindi la regimazione corretta delle acque perché se no altrimenti capita che la terra va nelle strade ottura le caditoie ottura le cunette quindi poi sono danni sopra danni e l'altra cosa che probabilmente tutti noi ci dimentichiamo e poi dopo tocca sempre il comune correre per togliere le piante che cadono lungo le strade è che chi ha i terreni che sono prospicenti alle strade comunali e anche provinciali deve togliere le piante secche deve si dice in termine tecnico piombarle quindi far sì che i rami non vadano sulla strada perché altrimenti sono problemi seri poi non tutte le volte parte l'operaio del comune perché è caduta la pianta secca per terra nella strada e ci sono situazioni di questo tipo ce ne sono tante tante dappertutto da noi ma come in tutti i comuni quindi serve un po' anche di serve il buon senso piano piano serve un po' di collaborazione perché altrimenti non è che poi cade una pianta chiama il comune ma la pianta non è del comune la pianta ha un proprietario perché poi capita state facendo dei controlli stiamo facendo dei controlli sì bene giusto certamente anche questo tipo di verifica sindaco benissimo alle piazze ma abbiamo dimenticato per troppo tempo le strade retefognare del centro storico di Barchi per non parlare del resto ok che è costoso ma insomma per il centro storico forse bisognerebbe stanziare qualcosa beh dimenticata adesso noi sono tre anni e un po' che siamo qua quindi adesso dire che è dimenticato no sui centri storici abbiamo un progetto che stiamo elaborando che li toccherà un po' tutti per risistemare quelle che sono i selciati interni questo sì per quanto riguarda le fognature gli abarchi in maniera specifica in una parte del castello c'è un problema che stiamo stiamo verificando e per capire effettivamente qual è il vero problema e poi interverremo il centro salute a Fornace di Orciano quando sarà attivo? allora gli ultimi lavori che servono per terminare la parte dove ci sono gli ambulatori stanno terminando quindi non è escluso che per per novembre ci sia l'apertura l'apertura Fornace andiamo sulla piazza io chiuderei con quella abbiamo anche in questo caso delle fotografie che lei poi ha pubblicato se non ricordo male sul suo profilo Facebook anche qui un'opera importante vediamo questo scatto che immortala il taglio del nastro esatto questa è proprio l'inaugurazione fatta il 4 ottobre il giorno di San Francesco patrono d'Italia e anche patrono di quest'area della Fornace questa è una piazza che abbiamo recuperato e abbiamo diciamo data la collettività come uso e anche come memoria di questo luogo che è un luogo che ha dato lavoro a tantissime persone nel passato tante famiglie che ci sono state perché qui c'era una fornace molto molto importante e quindi era necessario ripristinare questo luogo che ritorna ad essere un luogo chiaramente anche se c'è il covid di aggregazione un luogo che potrà essere utilizzato anche per servizi pensiamo anche di farci un mercato chiaramente non il giovedì che è orciano però dove i produttori agricoli possono fermarsi e uno può acquistare i prodotti a chilometro zero e poi questo fa parte non solo la piazza che forse è la cosa più importante che può dare più nell'occhio ma c'è tutto il marciapiede che collega quest'area con la parte centrale del comune che deve essere terminato manca una parte in cima e spero della prossima settimana di iniziare i lavori e quindi terminiamo tutto il percorso la ciminiera è stata lasciata la ciminiera è lasciata la ciminiera è diventata del comune di Terroveresche e rimarrà lì perché quella è un simbolo di quell'area è un'area dedicata al lavoro ai lavoratori essendo una fornace in dialetta ai fornaciari assolutamente pensate di realizzare anche lì qualche murales qualcosa per abbellire lì c'è il muro in fondo e quello è pronto li dovremo studiare è pronto il muro è solo da affrescare ecco la tele è già pronta adesso mancherà manca il soggetto e manca l'artista un ultimo messaggio poi ritorniamo un attimo sulla piazza vorrei suggerire al sindaco Sebastianelli di non dimenticare le associazioni del comune che sono una risorsa importante anche se ad oggi purtroppo hanno dovuto interrompere ogni attività e iniziative di conseguenza non hanno più risorse per poter continuare le loro attività noi per quello che possiamo cerchiamo di aiutare il più possibile con i contributi quelle poche manifestazioni che hanno fatto quest'anno le abbiamo sostenute tutte poi adesso con le Proloco stiamo mettendo a punto un progetto in cui poi diventeranno loro i gestori delle nostre strutture dei musei dei monumenti eccetera delle sale quindi in questo modo possono contribuire esatto contribuire e avere anche un beneficio perché poi dopo più sono attive perché le nostre associazioni non è che sono solo feste sagre c'è anche quello ma sono anche tutta un'altra serie di attività qui c'è l'ipogeo la quale apertura e chiusura è gestita dalla ProArt e vedevamo poco fa appunto l'associazione del comune esatto volevo ritornare per chiudere appunto con la piazza per sapere se invece avete scelto il nome no adesso partirà appunto questa consultazione perché già qualcuno ha dato delle idee però adesso l'apriamo ancora di più per dare un nome a questa piazza quindi è pronto ad accogliere anche eventuali suggerimenti tutti già qualcuno è arrivato adesso l'apriamo e quindi vediamo poi alla fine faremo come quel patrono alla fine ha fatto un referendum per scegliere il patrono che si ricorda come no in questo caso sceglierete anche il nome della piazza magari nei prossimi mesi quando lei ritornerà qua potrà annunciarlo forse potremo avere anche il nome esatto io la ringrazio il sindaco per essere stato nostro ospite ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito vi ricordo che tra poco va in onda il telegiornale di mezzasera invece l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa condotta dal nostro direttore Marco Ferri grazie sindaco grazie ad Antonio Sebastinelli per essere stato con noi grazie a voi e a tutti vorrei ringraziare anche il regia logicamente Riccardo Sora e Cristiana Guerra grazie di nuovo per averci seguito buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti